Ognuno vorrebbe la macchina del tempo, noi l'abbiamo qui, al Matis di Bologna, History 1990. Stiamo per partire. L'ambientazione di questa sera è Neon, che riprende particolarmente i primissimi anni 90 totalmente psichedelici, quindi veramente ambientazione luccicosa e meravigliosa. Bologna vuole pochi eventi di grande livello e History 1990 è questo. Stasera secondo me sarà veramente un delirio, anche perché è la settima edizione, ma a differenza anche delle altre volte, un mese prima della data abbiamo già esaurito tutti i tavoli, 70, e quindi siamo veramente strafelici. Questa sera abbiamo puntato a un DJ di fama internazionale, il grande Cirillo, che sarà con noi nel privé ed è un pioniere della musica tecno, quindi imperdibile. Il tema fluo degli anni 90 diventa Neon. Cioè, con un occhio al passato, guardiamo al futuro. Grazie. 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 Grazie.